Visita istituzionale a Teramo da parte del presidente del gruppo di Fratelli Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti. Incontro organizzato alla presenza di tutti i rappresentanti politici locali e regionali del partito. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di illustrare il lavoro svolto dal governo Meloni dall'inizio della legislatura ad oggi. Abbiamo speso più di 24 miliardi di euro per tutelare le famiglie e le imprese a fronte del caro Bollette. Abbiamo fatto una scelta di politica internazionale molto chiara. Si pensava che Giorgia Meloni, quando sarebbe andata davanti alle cancellerie europee, avrebbe trovato i cavalli di Frisia. I fatti ci dimostrano che è stata pienamente ospitata col massimo del riguardo, col pieno interesse nei confronti dell'Italia. Abbiamo riposto l'Italia al centro della vita politica internazionale, comprese gli incontri con Biden e il primo ministro indiano. E quindi significa che effettivamente il governo di centrodestra era quella ventata nuova che gli italiani il 25 di settembre hanno scelto. Tra gli argomenti trattati è anche quello della ricostruzione. La nomina di Guido Castelli a commissario straordinario. Il governo Meloni ha affidato, penso, l'incarico alla persona migliore che potevamo trovare sul territorio. È una persona che è capace, ha fatto il sindaco, sa di che cosa si parla, sa le procedure. Sicuramente l'accelerazione ci sarà e sarà un'accelerazione che gli abruzzesi non potranno che apprezzare. Sempre sul fronte della ricostruzione il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha voluto precisare il lavoro che sta portando avanti in questi giorni. Il senatore abruzzese, Etel Sigismondi. Sta svolgendo un compito fondamentale, quello di relatore nel decreto della ricostruzione e della conversione in legge. Ci sono novità molto importanti, aspettiamo le prossime ore, i prossimi giorni il passaggio in aula. Però possiamo anticipare che già gli emendamenti approvati in commissione costituiscono un vero punto di svolta nel processo di ricostruzione. Stiamo ottenendo in quattro mesi quello che in due legislature il Parlamento non ci aveva dato. Poi avremo maggiori dettagli quando il testo sarà licenziato, ma sono molto soddisfatto dell'attività che stanno svolgendo. Ma l'occasione è stata anche quella di provare a capire, vista la presenza di tutti i vertici regionali e locali del partito di Fratelli d'Italia, quale sarà il candidato del centrodestra e le prossime amministrative terramane. Ma la domanda sulle elezioni sia Marsiglio che Sigismondi hanno risposto che stiamo lavorando per individuare un candidato autorevole che abbia esperienza politica e sia in grado di rilanciare la macchina amministrativa di Teramo. Questo significa che non è stata ancora trovata la quadra nella coalizione di centrodestra.